buongiorno benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete in questa nuova puntata di striscia bellissimo in questa nuova puntata del video dedicata dedicato all'antiprima la prima volta che la prima volta non facciamo una diretta cercheremo di fare dirette o con una bella pruenza di pubblico bella c'è battuto che cico perso così però c'è una persona che dicono 10 che non è morto dentro a questo punto si facciamo il video vediamo come andrà andrà la situazione perché poi diventa veramente tutto troppo brutto da avere a questo punto è meglio parlare tra di noi e catteggiamo senza chiarire sarà controllare e proviamo questo format in video fa dicci sapere il vostro rispondo con un like commenti e tanto altro io tengo questo eco della mia voce perché è proprio la prima postazione vero si sente è un po' qui siamo al centro della santa grazie allo sponso alla fumetteria di tradi che ci ospita per fare video grazie a tutti tranne al proprietario e qualsiasi cosa in descrizione tutti i link per contattarci venici a trovare torlei eventi promozioni e c'è anche un bellissimo concorso in corso di disegno già sono arrivati un bel po' di disegni figli ho il tema è un one piece intenso come sogno come desiderio avventura bizzarri di voi facile e tipo vince gratuitamente cioè i vincitori senza pagare non c'è un costo di inscrizione si vince ben due box del numero 100 di one piece che uscirà il 12 aprile 14 ok 14 aprile però si da uscirà il 100 va bene qui che cosa abbiamo sangri la frontiere azione ironia si è la modalità di gioco non mi ricordo i quali sono gli altri però ok per un manga vincente c'è catarina sceleggiatura caveri acqua gargan e che vero su che fuggi e i disegni dove fuggi in italia ok apriamo allora perché non conosce questo formato e ci indirizzo sempre il mio video dove la prima parte no però vabbè si seguiva il format delle dirette penso per chi questo format è nuovo eh ho capito no però per chi seguiva le dirette a cui si è ispirato questo format no che in realtà all'inizio le prime erano 10 le prime di le ci ricordiamo si che poi abbiamo portato le dirette di youtube e l'abbiamo fatta ma solo perché siamo arrivati a mille e youtube ci ha dato la possibilità di fare diretta come quello abbiamo preso ispirazione per fare il video però ricominciamo se il nostro passo per il futuro e tornare a passare vero io confermo perché quindi lo portiamo in due parti quindi portiamo prima tutta la parte comics e poi tutta la parte manga con il fine anteprima yes vabbè qua ci sono un po di angoli l'anteprima tutto questo mese però quello che ci interessa lo troviamo a pagina 9 ah non lo leggete infinite frontiere numero 3 bello questo è un brassurato ok non è quello che c'è legato con le files quali saranno vabbè quali saranno i volumi roscurati che fanno che integrano la storia dalla pericolatura sono tutti simili poi dalla prima si è arrivato anche a quella nuova ah più di l'estate ok si e muoviaci di batta che ha state se andiamo avanti se batto 47 e 48 queste spillate e poi batto la special che sarebbe lo stato di paura è una nuova avventura di Batman è un costurato che costa 13 euro 128 pagine come se non diventa la situazione Gardner, Miracle, Molly e Peacekeeper 0-1 non ci interessa ma comunque non riuscire mai a vedere Batman? no, al contrario ah ok poi abbiamo Joker batte Super ma tu dove si vede là? si ma non si legge non si legge no, dico capito non si legge no, è Super 33 ma qui è Super 33 in realtà è Superboy con Super ormai che è il Dio? ma chi è che dovevo ora che sono chiesto di bisogno ah lui si è bisogno no, no, è Super no, lui no, lui perché c'è la chiave da fuori ah sì se lo ragioni poi abbiamo Justice League 24 vabbè tutti i diciamo i mensili si tutti i lati di mensili si Wonder Woman Banta Verde 25 Banta Verde 25 e Batman Catwoman 11 Banta Verde 25 poi abbiamo Batman di Scott Snyder il 25 e Superman di John Byron il 17 questo degli integrali dei piccoli trosturati che raccontano diciamo i momenti belli di Batman che è stato più bello se l'avete più successo no ma è John Byron mamma mia signora è il figlio della Wonder Woman che figlio come si fa notizie poi abbiamo il secondo volume di Superman vs. Snow bellissimo il poster diciamo deformato bellissimo 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 e poi Frecciaverdi di Lemire e Sorrentino 42 euro un cartonato di 472 pagine 6 anni fa Oliver Queen è naufragato sull'isola stendita lì è morto l'uomo ed è nato specialmente da notare ma wow no non è morto fighissimo genio bello e poi invece scusami Superman dopo invece brossurato da 6 euro e 90 secondo me questo sarà uno di quei rossurati però diciamo schiacciati ma l'arrivo è che sono vabbè bisogna ci troviamo sì perché attenzione questa lezione ok 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 secondo me sì perché la label questi qua sono sempre black club sì quello questo lo fa super bell'obbo super l'obbo perché l'obbo diciamo è la prima versione di deathbull che è molto più commerciale alla fine è un personaggio anti conformista perciò parolacce con la sigaretta in bocca fotociclette è figo eh sì più meno spazio doppio poi abbiamo robin e batman la nascita del dinamico duo niente poco di meno 17 euro un cartonato 136 pagine fa proprio le origini delle leggendari imprese batman e robin c'è la storia di due individui che imparano ad essere una famiglia più o meno quello che abbiamo visto in batman 3 batman e robin quando robin penso più o meno da lì sono ispirato e poi abbiamo l'action comic di superman mafia invisibile e se sei il squad volume 2 in boscata bello io sono batman un uomo cavaliere oscuro questo è il futuro ok ale fatti diventare un uomo cavaliere oscuro è un uomo batta risponde alla chiamata perché le strade di gothantisi chiedono giustizia ha una nuova armatura potenziata e un passato travagliato ma chi è questo cavaliere oscuro e come affronterà la disinformazione e la violenza che stanno affligendo la città una nuova serie che spagna l'universo battumaniano grazie a un po' di grazie ridley koiper e poleman i am battle il 2021 e poi dovrebbe essere autoconchiusivo non c'è i numeri e no vabbè non c'era 5 ah no si non c'è problema no penso di sì perché comunque è bello comunque è bello non dovrebbe essere un reale fatto ma non dovrebbe essere un reale fatto ma che parla di me quando si è stato fatto dice che sembra lui sembra William no no appunto non è come lui ok secondo me sarà un personaggio che si è preso per un attimo il merito vediamo curioso quello io sono button vediamo poi c'è Milstone, Rettun, Static dei ragazzi di video si è rumo rumo poi no proprio la scritta proprio con i due punti tipo le tracce no che ti tregato con il nome poi numero ok poi c'è task force Z la morte è solo l'inizio che bene più o meno non è solo l'inizio ma qui chi è lui dovrebbe essere mamma mia no conosceremo bene non battere più facile e poi Imperial Fire benvenuti a Danger Film poi Shazam l'inferno di Billy Burton e Black Adam nascita e caduta di un impero a lui il film con Dwayne the Rock Jobs al cinema bella diventa pure un personaggio vicino si ah e i soldi a palazzo che figo Aquaman Becoming nascita di un eroe la prima avventura di Jackson Hyde come nuovo Aquaman ma sarà stile anche figlio di Superman è molto Dennis Notio veramente lui si lui è più di tanti fatevi da vedere compro la mano nei capelli si no veramente 3 cinema 3 fa Dall'Adurso e guarda quanta luce ha presa Dall'Adurso poi c'è Batman Beyond volume 2 bersaglio Batman e il grande libro di Harley Quinn bello come questo ci arriverà un cartonato solo a 25 euro 384 pagine ma i grandi libri lo sento però e poi abbiamo la serie animata di Harley Quinn 17 euro 144 pagine un cartonato che però uscirà a luglio mentre il resto non uscirà a maggio questa a luglio la Justice League International l'International Giffen e Mattei Giffen e Mike come autore e poi l'antena verde di Grant Morrison sempre il 36 euro il l'absoluto Paul Star Superman 45 euro lo flip case è quello che si spila laterale è un formato tanto grande e poi il classic di i coraggiosi gli audaci come queste cose della Bronze Age ma peggio ma quelli che vendono noi se fai riguardo i manga di 13 centi di si gli omnibus animal man di Jeff levin e Joe the barbari altri no non diverso niente books of magic con Harry Potter si uguale che grande sweet dot volume 5 e film volum 7 e poi tutto speciale di Batman per i film non dite niente nei commenti che noi non abbiamo ancora visto rivivi le emozioni si 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 a me c'è terra 1 che spettacolo con tutto il coparetto il film di Batman spettacolo perché il doppia no tutto la maggior parte li trovate anche alla povetteria e io sto aspettando il film dei sogni che non c'è ancora arrivato è quello giapponese è quello giapponese invece sia Batman ma questo è quello l'altro il cartonato giapponese quello più tutti secondo me tutti no 5,90 la Marini saluta saluta qua c'è tutto il reparto Disney salutiamo agli enologi andate da lui lo fa lui questo servizio seguita agli enologi paperino tutto calcio fortissimo il calcio guarda 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 dove sta dove sta dove sta dove sta dove sta oh vai questi per i mondiali dai i prossimi mondiali lo vinciamo noi no ma questo no ma questo dei giovani di malbotte mi sa mi sa e questo vinceremo ma quello non mi sembra l'imprevo che sia si 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 fortissimo di malbotte di malbotte bene deve segnare due di quattro comunque Wilson Fisco a posto di verso malve su un sentiero violente e pericoloso sperando di ricrearlo su immagine insica proprio tutto l'universo l'ex rete crimine della East Coast di Notorious strutta a fine suo potere politico per attaccare gli eroi di New York Capitano America, Iron Man, Spider Man e Daredevil cercano di liberare gli eroi catturati da Fisco oh quando lo vedete fateci un Fisco civili eroi e bambini ah ma Putin che c'è Putin alla colla di King Will King Will è la città di Daredevil il diversamente male Daredevil la donna senza popola numero 2 comunque ci divertiamo aiuto a me lo prendete negli occhi avanti in Spider-Man 85-86 e poi Fantastici 4 42 poi Avengers 43 Thor 22 tutti i mensili Capitano America slash Iron Man numero 3 Iron Man 18 Hulk 4 Venom 4 Miles Morales Spider-Man 20 X-Man 8 Secret X-Man numero 1 un nuovo spillato 5 euro una nuova run una collana di Marave si 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 ok e poi X-Lights X-Dead Hulk Wolverine numero 3 numero 4 questo per nascere il cartonato questo oh si X-Lights eh figo poi guarda tutti tutti con la X perché quelli fanno pure la X quando fanno tutti ma l'integrale di X-Man e poi di Spider-Man Fantastici 4 la cosa per stendiate di Mortale Hulk mi ha tutti i capelli in realtà illuminati dare forma a lui metto vai questo se non me lo ti piace ma il professor X dottor strength mister fantastico ok ok Friccianera e no quindi ti vogliono tipo 300.000 dico sì eroi che si sono addossati le responsabilità enormi per proteggere la terra illuminati protagonisti di avventure parallele attraverso quindi attraverso un po' comunque è geniale l'idea troppi troppi intellettuali in un solo punto mamma mia tutti ognuno del tuo mondo sì 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 è interessante non ho capito freccianera che lo mi ricordo proprio come personaggio e poi lo conosco ma non come personale non non le mai eh sì non sono nemmeno mi sono veramente strani no figo bello e poi la vita e le morte della potente Thor il cofanetto il Thor Love and Thunder allugno al cinema ok 121 euro una nota di post ma compata 2200 pagine come? diventeremo una nota di post ma compata sì è fisicamente è una cosa di colore perché diventa sì diventa la potente cosa che figlio vabbè non è 2200 pagine no no quello che c'è nel prezzo qua vediamo i pezzi dei cofanetti di otto volumi e poi abbiamo l'omnibust di Spider-Man la Sagra del Clone parte 2 item sui cofanetti 280 è bellissimo il cofanetto comunque sì oppure i cofanetti però non hanno senso cioè nel senso hanno senso perché vuole buttare 200 euro di una botta però almeno con quello c'è il cofanetto che forse vi aiuta buono forse e poi io sono Spider-Man Anniversary Edition un bello 25 e uno 278 magine e poi io sono i grandi libri e poi i due pastema allora questo è poco figo me lo ricordo Torment mi sa che è uno delle ultime saghe collette di Spider-Man di Torment tipo 96 con 200 2 e poi quelle quelle di vuote il ciotto eh sì sì vecchia sì 80 un numero quando è del 90 ah ok allora no questo ancora fa questo non lo ricordo questo non lo ricordo perché questo non lo ricordo è una carta non lo ricordo per male comunque 20,5 per 31 e abbiamo i grandi tesori Marvel Capita America stanotte muoio la gente 23 come distrugge come un video con l'humor la gente cambia canale che è l'Hobby Marvel Hobby ancora il classic volume 1 cioè che cos'è ricomincia anche l'Hobby cosa? che è l'hobby diceva che c'era il sistema già la movie ah no è l'hobby sì ah ok 1088 magine ah no ma qui c'è il battle lo spiderman con lo lo spiderman che è il battle lo spiderman con la real sì per primo sì poi abbiamo l'Hobby tutti e Excalibur che non so che cosa c'è con il testino ah ma lui è Ratman no adesso stiamo ancora no lo so se avvi il bambino quello di Roger Rabbit i scatti mi scattò mi scattò ricordi quel di Roger Rabbit no no è Roger Rabbit mi scattò mi scattò mi scattò mi scattò mi scattò è uno è un giugno e allora no allora sto parlando l'altra cosa è uno che serve te l'hai visto tu come quello è isso io devo essere altre mezzo due che fate no e allora no allora sto parlando l'altra cosa io come io sono l'altra cosa che è il pro è il coniglio no è il coniglio quella coniglia il coniglio il rival è doc ah ho capito sì è il metterlo eh sì sì ho capito sì però è proprio no è doc è perché un cazzo arrivato lo sento abito perché poi c'è oh comunque ragazzi mi voleva dire come detti Roger Rabbit ma se no me lo posso vedere la prima come decisa bene come avete visto Roger Rabbit capolavoro aveva Christopher Lloyd sì ok ok Aria volume 1 linea di sangue comunque sì solo per l'immagine chissà come sarà un personaggio a 160 valli diciamo vero comunque non lo sai ma la nuova serie Marvel di Aria non so cosa deve recuperare come ti hai capito nel senso eh no è ricominciato 2021 1-6 anno 2200 nella sua eterna ricerca è un campione biologico vivente di Xenoman la megacorporazione Quailant di Utani è riuscita a produrre diversi sembrati della letale razza aliena su una stazione orbitante ben presto Manipolo di Ribelli si ritroverà bloccata all'interno della struttura infestata dove alitati del buio attendono gli alieni più letali dell'universo e forse ancora qualcosa di più pericoloso dall'anciatissimo sceneggiatore Philip Kennedy Jonathan e dall'artista fan favorite Salvador La Rocca vi aspettiamo in fumetteria grazie chi è che c'è la madonna la rocca come madre martolicana madre martolicana e padre no padre finalese la rocca bolognese poi rammer 40.000 volume 2 sorelle guerriere e poi siamo quasi alla fine dei comics con i piccoli grandi camponi scusate se è ridotto è proprio tutto Janik Sinner il manuale illustrato del tennis 9,90 euro ma sembra proprio quando compravi i videogiochi della playstation c'è proprio questa immagine del tennis quello che qua in me la racchetta mi fatti capire che parla di te però non ci arrivavi no poi il parking ci ho pensato alla dipangetura poi poi il coferetto come sai numero 2 di Giulio Maccaglione no ho smesso l'altro è un gigante di 99 e questo pure fare con le stazioni di 1100 si è ligno no questo è un gigante non c'è da niente sono tutti capitoli si si 22 poi è bello Spon 2 però vedi una cosa Spon 2 che però è un oscurato della nuova serie è proprio perché questa è la deluxe no perché questo questo Spon 2 è una ristampa di quello normale e infatti contiene capito è solo una nuova stampa oltre alla deluxe che stanno facendo quella che è casita vabbè inutile con le poche cose ah vabbè tanto c'è la carta io me lo scordo che c'è la carta da buttare siamo quasi alla conclusione questo è il quale ti riporto e lui viene e si vende da giovane si vende da giovane ecco il quale questo è il quale lo dire in del mondo la grigia è di a Bellati no di a Le Strenze ok volume 5 come volume 5 e ci sono dei tre volume 1 vedevi d'accordo ma con V e poi da 1 a 6 ma con V poi la vediamo vai vai Dei De non se l'ho detto bene ma al contrario Dei De era più bello il Rage e poi c'è Enigma di a me la parte finale no è la parte finale mi interessava forse lo vediamo il fumetto prepulsore dei temi lgbtq pst lgbtq 142 nelle storie di supereroi l'unione speciale di cadiaxtra ho capito ma dopo che il terreno lgbtq c'è un extra però la questione è che in realtà marcare e rimarcare è peggio vai a creare dei gruppi che non dovrebbero esserci punto se c'è il personaggio che è praticamente la stessa cosa di mettere perché deve essere perché la maggior parte del mondo è così 200 pagine bellissimo benissimo la copertina molto carino parla ecco il class volume 2 amico del diavolo e poi il cross del volume 3 che contiene i cross più di 100 io sapevo che piva invece contiene anche 100 ma sarà non ho capito perché poi c'è cross ed però poi dice che contiene 100 2014 al 12 quindi non contiene cross ed in realtà mettetevi il cuore in pace anche tu è scrociato è scrociato no c'entrerà sì ma penso che c'è tipo il continuo il continuo cent'anni dopo mamma mia mamma mia spettacolo 17 euro 144 vagine parliamo di magic the catering volume 1 per chi non è di trani sicuramente conoscete il gioco per chi è di trani vicino magic the catering è il primo gioco stereo di carte collezionabili con una loro pazzesca e questa loro non sei di trani se sei di trani meno stai in strumenteria qua è una categoria no ma perché specificano credi i gruppi ma non lo sa nessuno non si può non giocare in una provincia così grande a magic non ti può non non l'accetto non l'accetto non l'accetto mai non solo perché ci gioco pure perché ma no perché mi è cresciuto perché la cosa è medico a me mi ha salvato medico dal nord dalla solitudine dalla solitudine dalla solitudine dal nord dal nord il nord non esiste comunque è bello bello a direciate che crei gruppi no 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 volume 1 quasi tutto no 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 o ok ti dico quindi questa è una storia che mi può più che ti espirà eh questo scuoto la città di Ravnica Vralzarek Vraska Kaya la vita di Jace Peller era in grave pericolo i gruppi si stanno trasformando è un casino un casino ragazzi poi qua abbiamo il settimo di Dagen and Dragon spine nel mondo all'inizio del mondo ah beh si è la spina del mondo la spina è l'ultima cosa che è tosse no, ho fatto che spina no, è per inglese non so che inglese no, è l'inglese che si tradotte no, è vero ma che fai? ma che fai? che si chiama? parche, polche la chiamano Torn torna a casa vieni a casa ma qui c'è il volume 7 totale allora di dovevo recuperare 7 volumi vabbè 11 euro 11 euro ci vuole 6 pagina e poi c'è Total War Warhammer quella è un'altra cosa figa però lo so che non è un fumetto è l'arte dei giochi immergiti nel ricco e affascinante mondo di Total War Warhammer con l'arte dei giochi avrai la possibilità di scoprire tutte le curiosità sullo sviluppo della serie di giochi di strategia creati da Creative Assembly un volume ricco di bozzetti no, lo so capendo un volume ricco di bozzetti studi, caratteristiche, illustrazioni per esempio da commenti degli artisti che hanno dato di da questo mondo fantastico un libro oggetto imperdibile un libro oggetto imperdibile per qualsiasi faccione di Waka però non bisogna saltare i libri così eh, non c'è non è un po' buono bellissimo il migliore il migliore il migliore di Ninja 54 e poi ci sta Asterix e la Obelix e poi tutto Star Wars in uscita per lo Star Wars Day edizione Variant 7 euro lei gli è Ciubecch e Lando a vedi come balla Lando eh sì, per forza e poi Landa Repubblica yes è il volume ricco di un'attuale sì sì ehm siamo lo spillato sì e poi l'altro spillato la guerra la guerra dei cacciatori d'Italia yes, bellissimo Star Wars editato volume 2 Tempeste ehm Star Wars e cacciatori d'Italia volume 3 sì eh, due quindi la guerra dei cacciatori d'Italia di un'attuale volume cioè la parola di un'attuale di un'attuale poi vediamo Star Wars l'altra Repubblica avventure il mostro del del tutto del tempo che questo è il cantonato dei volumi ehm cioè dell'avventura della Repubblica avventure e poi Star Wars eh nei diari di Obi-Wan anche noi edizione deluxe che è praticamente la serie che ti dà a maggio con Evan McTaggart praticamente sì segreti di segreti di in tecnici di romanzi e noi bellissimo e poi l'altra Repubblica la scelta la capitata è un romanzo che si è romanzo sì scusate mi chiedo di romanzi sì stavolta stavolta ok no 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 e poi tutto la parte lego e poi finisce il video spero che dopo tutto vi sia piaciuto questo nuovo format questo nuovo modo per comunicare le novità vero quando ci do ok però nel caso l'animo non può accorciare velocizzare cercare di dare un time detto questo ragazzi grazie mille per la visione e per il supporto ci vediamo al prossimo video bella Waiu grazie a tutti